Ti preparo io? Sì grazie. Non puoi vedere le mani tue? Le mani mie guarda le mani del contadino. Perché tagli le radici? Perché sono troppo lunghe. E ma mentre faccio il trapianto non serve che siano più radici possibili? No. No. Per lo meno io la penso così. Ok. Pronti? Adesso togliamo? Prendo le forbici se no. Facciamo la barba. Facciamo la barba ai porri? Se no si piegano quando le fichi giù e non vanno bene. Va bene. Sei sicura non ne vuoi più? No va bene così. Grazie. Perfetto. Adesso li piantarei subito? Immediatamente. Andiamo a piantarli? Andiamo a piantarli.